Ancora una volta ciao ragazzi bentornati su 7 days to die Noterete che siamo su una nuova mappa, non abbiamo più niente perché Per due motivi, primo dei motivi è che la vecchia mappa si era buggata Per qualche strano motivo iniziava a crashare ogni volta che cercavamo di iniziare a giocarci Quindi siamo passati a una nuova e abbiamo approfittato anche per cambiare la versione del gioco Prima stavamo usando la 0.9 1.0 non so Mentre adesso siamo alla 1.1 che da quanto so è l'ultima, la più aggiornata, è uscita qualche giorno fa Insieme a me come sempre c'è Anna, ciao Anna Ciao Di fronte a noi c'è la fabbrica di non so che, di cioccolato probabilmente del mondo di questo schifo di universo Popolato da zombie e da detriti in mezzo alla strada Io approfitterei per prendere un albero, com'è che tu hai un'arma di già? Perché ho trovato una scatola e c'era dentro l'arma Ok, è andato abbastanza bene su questo punto Nella mappa precedente avevamo parecchia roba in più, quindi dobbiamo recuperare quello che avevamo Senti, mi aiuti a spaccare sto albero perché ci sto mettendo un'ora Ecco Brava Wow, guarda quanto legno Burnt wood Lo vuoi tu il fucile? No, tienilo Ok, io prendo il legno, ci faccio la baita di montagna Ok, andiamo, ce ne va Ah, dentro questa fabbrica troverò qualcosa pure io, no? Andiamo qua Quindi, nuovi obiettivi per questo nuovo mondo Sperando che la situazione dei crash si sia risolta O quantomeno si sia ridotta Primo obiettivo Finalmente dovremmo cercare di costruirci una base, qualcosa Perché fino ad ora non siamo riusciti a... Qua è pieno di zombie, eh? Oddio, non entrare, non entrare, non entrare Quindi, costruirci una base o comunque fortificare un edificio o qualcosa Non siamo ancora riusciti a farlo E poi, non so Probabilmente quando aggiorneranno di nuovo il gioco Da quanto ho capito dovrebbero aggiungere delle nuove cose Quindi, nuovi mostri, nuovi oggetti da creare Probabilmente sarebbe bello arrivare al prossimo aggiornamento Avendo già qualcosa Quindi, riuscendosi a creare una base Qualcosa di fortificato Ecco, da dove iniziare Ora, questa è una bellissima base Però è troppo grande Quindi, secondo me, ci moriamo a ruota Se cerchiamo di fortificare questo Sì, ma a parte che buia Questi sono assatanati E' piena di zombie Senti, usciamo Aspetta, però, ma qua ci potrebbe essere roba preziosa C'è acqua, tipo Tu proteggimi, eh? Io lutto, tu mi proteggi, va bene? Non mi stai, dove cavolo sei? Stai morendo? Che stanno uccidendo me Esci, vieni qui Dalla porta Scappa, che io non ho niente Non ti posso nemmeno aiutare E non ho trovato nulla Senti, da qua dove possiamo andare? Aspetta, vieni qua Mi ricordo che Questo coso aveva una porta E c'era nozano Infatti, eccolo Guarda com'è esperta E dici se qua c'è qualcosa Una torcia c'è dentro Che schifo Da questo coso ci sono precipitata 20 volte Quindi hai imparato che cosa c'era dentro Brava Da qui dove possiamo andare Vediamo un po' C'è un edificio di là Un altro di qua Andiamo in questo Che è di qua Vieni Andiamo Sì, arrivo Nell'altra mappa Dove eravamo arrivati la volta scorsa Prima che io mi ricordo Perdessi la mia motosega bellissima La quale ero molto affezionato Continuando dopo Fuori dal video Avevamo trovato un edificio Una specie di baita di montagna Tutta in legno Ora, se riuscissimo a tornarci Non credo che sia difficile Siamo vicini a quel punto Ci arriveremo Entrò il mattino Nord è là Tra l'altro No, non ci arriviamo Però possiamo arrivare Sì, ce la dovremmo fare Vieni, vieni Arriviamo Alla casa Oddio Perché l'ho fatto? Perché se andate Avrebbe aggredito Non era vero Questo cactus Lo posso? Perché lo stai facendo Perché? Sei felice? Perché è rimasto così? Ci metto un divano Perché è una pianta grassa Ora è una pianta grassa in divano Seduta in poltrona Guarda bella T'ha comodo signore? Eh? Andiamo va? Mi assomiglia A chi? A te? Guarda che la pianta grassa Tra noi due sei tu Sì Sì E comunque vieni Perché di là vedo L'edificio dove stiamo andando Dobbiamo ripulirlo dagli zombie Stai attento a non prendere In braccio una pianta grassa Fanno male Oh sto morendo di fame Di sedia Oh è vero Io ho detto io Non tu Eh però anch'io Cosa hai mangiato tu? Prosciutto Che schifo Andiamo va Vieni Tu che hai mangiato? Che dici tanto che fa schifo? Caviale In scatola Caviale Tonno Vabbè ho mangiato tonno Vabbè Ah Attento che magari Erano le scatolette del gatto No era tonno Per uomini Comunque è pieno di zombie Vieni Aiutami Perché io non ho più munizioni Praticamente Un'altra pistola Oh oh Che vuole questo? Perché sei aizzato? No Anna Anna esplode la macchina Non ti mettere davanti Sì ma esplode Non lo fare questo lavoro Non ho sparato la macchina L'hai presa? L'ho presa? Oddio l'ho mancato Non ho messo in scarsa E' peggio di me Meno male tra l'altro Hai tanto scrap metal? Ne ho tre mi pare Solo? Sì Oddio Eh lo prendi tu 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 Meno male Non te lo lascerete indietro Allora Mi stavi per redshotare? Senti non sparare ai barili Perché esplodiamo Facciamo un boato Ok? Come lo sai? Eh perché l'ho fatto E tra l'altro Non lo fare anche per un altro motivo Perché se distruggiamo questo posto Poi dove ci nascondiamo noi per la notte Oddio Ho trovato Ho trovato la motosega Ho trovato la motosega Hai trovato la motosega? Oddio Aiuto Aia Cazzo Ah Porca puttana Stavo organizzando l'inventario Eh la madonna Tiè ti doi così dello shotgun Prendi Buttati a terra Prendi Sì ho preso lo scrap metal Prendi così dello shotgun Sì 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 Dove sono? Senti io ho un po' una paru Ma secondo te questo fuoco da campo si può accendere? Forse Ho trovato della benzina La benzina è per la mia motosega Ops ho preso una pentola Vabbè senti Dove sei andata? Sono dietro di te Allora ascolta Ehm Ho preso un baril Bellissimo Si possono raccogliere Aiutami Si possono raccogliere i barili esplosivi? Sì ce l'avevo messo io lì Ma questi esplosono Sono bellissimi Non li mettere lì Perché se poi spariamo Lo prendiamo Siamo fottuti Ok Allora io ho preso dei barili esplosivi Senti Sai che facciamo noi adesso qua? Sì C'è un Un secondo piano In questa casetta Del cavolo Non credo Comunque l'abbiamo Oddio Stavo per cadere lì lì Ma lì Non c'è andare Non c'è andare Ma si matta Ci sono i punzoni Ci vado Poi si possono togliere Eh volendo Però Aspetta togliamoli Ah c'è solo la medicina dentro Ok vabbè Ho preso comunque gli spunzoni Senti abbiamo Pochissimo tempo Vieni Dobbiamo chiudere Io sento Eh cosa senti? Cosa c'è? Sento zombie Oddio Ascolta Io chiudo Vieni dentro Vieni Arrivo Ma chiudiamo Cos'è sta roba? Io ho i barili esplosivi Io sto barricando Senti Barili esplosivi Fammi un favore Non li piazzare Vabbè Te lo posso chiedere Con tutto il cuore Non li piazzare Va bene Ok grazie Vieni anche là Chiudo anche qua? Sì Un piano B Un piano B Un piano B Secondo Se loro Aspetta Allora Chiudiamo qua Con queste spunzoni Stai attenta Non passarci Eh Hai capito? Ok Perché è importante Io sto iniziando Ad avere l'impressione Che loro siano Sopra di noi Davvero? Sì Oddio Senti Aspetta Mi sa che la parte Che tu hai barricato Qui Che ci sono anche Le asse di legno Eh Porti al piano superiore No Non c'è un piano Oddio Mi sto Allora Aspetta Faccio le torce Ok Ok Illumino Vabbè Sì Ah Tu dici Quale punto Dovrebbe portare Secondo te Questo Dove? Qui Senti qua Questo qui Dove sono io Spostati Spostati Sì Avevi ragione Brava Ok Allora adesso Saliamo sopra Con coraggio Con coraggio Non c'è nessuno A posto A posto Oh sì che ci sono Oddio è vero Sfigato Sono quelle là Bravo Ok Allora io Illumino Non mi sparare Ti prego Non mi sparare Sta andando tutto bene Non mi sparare Ciao cadavere Ciao cadavere C'è anche dello sham Buono Scrap metal Lo vuoi prendere tutto tu lo scrap metal Ti lo metto nell'ultimo condizionatore Grazie Grazie Quindi Abbiamo illuminato tutto Abbiamo sistemato tutto In teoria siamo a posto Non c'è più niente di cui dobbiamo aver paura In questo momento Tu dai un'occhiata alle scalette Nel caso qualcuno Riesca a salire Non dovrebbero Però insomma Ah la vuoi la benzina della motosega No ne ho tante grazie Perché la tua gamba sta andando a fuoco Il tuo ginocchio Dai tranquilla Puoi calmare un po' Hai una torcia nel ginocchio Ok Ti metto la benzina della motosega nello scatola No Dovevo fare il ferro Ne ho 37 Quindi dovrebbe essere abbastanza Per farne un po' Iron ingot No ve ne ho fatto più Ancora qualcuno Così Altri due E basta Benissimo Abbiamo 12 lingotti Ora Qualcuno di voi mi ha consigliato Di fare Un oggetto strano Che non mi ricordo però come cavolo si faceva Era bello Era tipo una mazza chiodata Tu ti ricordi come si faceva la mazza chiodata? No No Aspetta allora vediamo Oh ho fatto l'ascia Sì ma l'ascia non è tanto utile però Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro va Tipo questo cos'è? Questo è un picco Sì è un picco Il piccone Eeeh Insomma Vorrei fare il martello più che altro Il martello è buono Perché fa malissimo Il martello ho provato la volta scorsa Con un colpo ammazzi lo zombie Tiè te lo do a te Lo vuoi? Tiè prendi il martello Ah aspetta io intanto guarda Eccolo prendi Vado a fare pulizia Prendi martello Prendi martello Oddio Prendi il martello Perciò non dovevi uccidere Ti do un compito Prendi il martello e vai a rompere i condizionatori Cioè li martelli capito? E però Stai tranquilla Non si sono accalcati Oh il forging metal Che cavolo Come si fa a fare il forging metal? Ah sono delle barricate il forging metal L'utile Poi abbiamo la fire axe Server Vabbè basta dai Non c'è nient'altro da fare Ok Che succedeva? Tutto bene? Forse non dovevo sparare Hai attirato un caterva di zombie? Sì Lo scrap me va Ma se lo tagliassi Ma gli fa un cavolo a questo Guarda Nemmeno il martello Sembra fare anche a questa getta Cavolo com'è potente quello Senti io mi sento molto coraggioso Oddio ma stanno rompendo tutto Non so Non dovevo sparare Ma no Vabbè no vengono comunque Lascia stare Però il fa Guarda là Cioè questo doveva essere la nostra casa Un distributore di benzina Eh non viene Un distributore di benzina Ma posso ammazzare questo tipo morto? Oddio l'ho ucciso Che schifo gli hai fatto Non guardare Diciamo che ci sto prendendo gusto a tagliare Ma non mi dire Ma non si rompono queste cose Oh ma io posso usare Col martello no Ah Vabbè E qua sotto? Qua sotto secondo te si può scendere? Sembrerebbe di sì No Ma io ho la motosega Sì Aspetta Calmi Siamo calmi Oddio è tutto distrutto Oh Oddio è pieno di zombie Fuggi fuggi Te l'ho detto E se io andassi tipo sotto con coraggio? Io facciamo che apra un barco Col martello Ok io mi preparo E inizio a sparare a raffica Ok Ah senti io mi preparo Però se muoio Tu devi recuperare la mia motosega Ma tu sei pazzo Io scendo là sotto No Ok sto andando eh Ciao 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 Ciao